Nel comune di Silvi, nell'ultima riunione di capigruppo, è stata rimandata la mozione presentata dal consigliere di opposizione Vito Partipilo riguardante lo stato di abbandono dell'area Ex-Pollaio, situata sulle colline di Silvi, sopra il cimitero, un'area di diverse centinaia di metri quadrati in totale, abbandonata da almeno 15 anni, con tetti in Ethernet che a causa dello stato di incuria si rompono, portando alla propagazione delle polvere del nocivo materiale e con tutte le conseguenze che comporta per la salute. Sono circa 15 anni che quest'area è in totale abbandono, con tutte le conseguenze dell'abbandono che portano, visto che i tetti sono tutti in Ethernet, tutti rotti, sappiamo benissimo che la pericolosità dell'Ethernet è proprio dovuta al fatto che con la rottura si liberano le polveri che sono nocive per il centro abitato, sia per Silvi Alta che per Silvi Marina che immediatamente qui sotto. Nel 2013 avevo fatto un esposto all'ASL, a cui c'era stato un seguito, una relazione che intimava all'amministrazione di dover ottemperare a tutte le ordinanze sindacali per poter rimettere in bonifica l'area. Dopo siamo stati in maggioranza e siamo riusciti a ottemperare tutto l'iter burocratico. Purtroppo è brutto dirlo, ma veramente è una bomba ecologica per la città di Silvi, basta semplicemente andare a rendersi conto dell'incidenza tumorale in questa zona. Una situazione molto delicata su cui voi avete chiesto all'attuale amministrazione di intervenire nell'immediato, visto che considerato che ormai l'iter era stato avviato. L'iter che nella parte burocratica, che purtroppo era molto lungo, è stato sviscerato nei tre anni di amministrazione comigliana, quindi io ho chiesto con una mozione di proseguire l'impegno, come avevo chiesto anche al commissario prefettizio. Praticamente ieri nella riunione di Capigruppo i presenti della maggioranza mi hanno detto che al momento non era prioritario portare questa mozione. Secondo me è solo una piccola ripicca politica veramente spiccia che fa capire anche lo spessore di questa amministrazione. Grazie.